benvenute e benvenuti questo video è per correggere un po le prove di educazione civica allora parto dalla prima che è stata fatta in ordine che è quella della quarta L il tema era la pace in entrambe le verifiche e sostanzialmente una cosa che ho notato in quasi tutti gli elaborati non mettete più le maiuscole non so perché ma se scrivete prima guerra di indipendenza eccetera mettete le maiuscole poi fate attenzione all'ortografia della lingua italiana tipo saccheggiamenti non esiste cinque giornate di Milano ci vuole la maiuscola prima guerra di indipendenza ci vuole la maiuscola qui c'è un'espressione io non so se l'avete copiata da qualche parte ma c'è scritto che creare un'avanguardia rivoluzionaria consapevole questa espressione è un po anacronistica l'idea di avanguardia rivoluzionaria è usata per esempio quando si parla del leninismo in Russia all'inizio del ventesimo secolo ecco ancora nell'ottocento non c'è e poi anche nella stessa verifica si parla della mancanza di consenso sociale nessuno nell'ottocento pensava proprio al consenso sociale non è certamente come oggi oggi questo è un tema molto importante perché si cerca invece di pubblicare dei contenuti che non siano lesivi dell'opinione di alcune persone che non vadano contro la sensibilità eccetera poi qui ci sono due persone che hanno scritto la stessa cosa anche a proposito di questo consenso sociale c'è anche un'altra persona che l'ha scritto quindi mi sembra un po strano che un'espressione così anacronistica sia stata usata da due persone nella stessa verifica rivoluzione francese con la maiuscola qua c'è una considerazione nella quale si dice che la pace sarebbe stata raggiunta realmente eccetera eccetera beh in realtà non possiamo sapere se agendo diversamente possiamo solo sperarlo insomma visto che non possiamo prevedere il futuro il congresso di viene andato come è andato e quindi oramai la pace non c'è stata beh poi guardate un attimo il lessico l'uso delle vostre espressioni perché primo intervento a me sembra un mix fra primo soccorso e pronto intervento ecco e poi anche qui c'è scritto che riesce a conquistare Milano no ma non è Carlo Alberto che conquista Milano è le cinque giornate di Milano sono anteriori Milano si libera da sola dopo aver avuto avuto la notizia della rivoluzione scoppiata a Venezia ripeto per la terza volta l'attenzione alla lingua italiana insurrezione con quante z si potrà scrivere concilio chi lo convoca il papa quindi sarà congresso di Vienna non concilio di Vienna dai a questa mi è piaciuta c'è scritto che c'era una fiscalità straniera che era mal tollerata dai milanesi ma in realtà il 10 per cento di tasse più o meno era la fiscalità del dell'Austria nel suo impero quindi il regno d'Italia poi chiese di più di tassa effettivamente a questa mi è mi è piaciuta perché in guerra bisogna combattere come uomini gentili no come galantuomini forse non come uomini gentili qui c'è stato un pasticcio c'è scritto nel 1990 in Europa c'era stato il crollo del regime comunista molti stati entrarono a far parte della comunità europea bene quali la Grecia e successivamente Spagna e Portogallo no no Spagna Portogallo entrarono dopo la fine della dittatura di Franco e di Salazar idem per la Grecia che entra nella democrazia ed entra negli anni 80 quindi forse c'è stato un po' un pasticcio poi qui ci sono tre persone che hanno scritto di questo piano Vence Owen per la pace in Jugoslavia io non ho capito perché hanno scelto proprio questo piano perché in realtà ce ne sono stati diversi di piani per la pace non c'è stato solo il piano Vence Owen ma poi penso che abbiano copiato tutti dalla stessa fonte perché poi hanno scritto anche delle altre cose che non non mi tornano molto poi sempre per la confusione anni 80 anni 90 qua si dice che la guerra jugoslava si scatena sostanzialmente perché nel 1980 muore Tito no appunto nel 1980 muore Tito ma poi non ci furono dieci anni di guerra fino al 1990 la guerra in Jugoslavia scoppia dopo la caduta del comunismo non dopo la morte di Tito la morte di Tito è anteriore alla caduta del comunismo e poi ecco sempre questa frase che è stata copiata da qualche parte adesso vado a cercare anche da dove è stata copiata perché la frase dice la guerra le guerre jugoslave sono state una serie di conflitti armati posti tra una guerra civile e conflitti secessionisti che hanno coinvolto diversi territori appartenenti alla repubblica socialista federale di Jugoslavia eccetera eccetera ecco questa frase è stata ripetuta da tre persone di cui ovviamente non non faccio non faccio il nome ma sono tre persone che hanno scritto la stessa cosa ecco qua da dove avete copiato insomma cioè non avete neanche fatto tanta fatica le guerre jugoslave sono state una serie di conflitti armati inquadrabili tra una guerra civile e conflitti secessionisti che hanno coinvolto diversi territori appartenenti alla repubblica socialista federale di Jugoslavia una decina di anni dopo la morte di Tito tra il 1991 e il 2001 causandone la dissoluzione in realtà noi abbiamo parlato solo della guerra in Jugoslavia no del conflitto del Kosovo che è posteriore che si termina all'inizio del del 21esimo secolo manco ne abbiamo parlato nella traccia quindi oltretutto non questo non ci riguardava infatti gli altri non ne hanno parlato ecco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti